Il cross fa recuperare il pallone Cristiano Ronaldo, ancora per il tedesco che può andare in mezzo a Bale al nono minuto, fa 1-0, è tornato Gareth Bale ed è suo il primo gol della giornata Il cross di Chini, Baptistao di testa, però non è lontanissimo dal secondo palo Cames, va per la porta il colombiano, Alvarez, calcio d'anno Secondo corner per Imerengues, fa in mezzo stavolta Cames, arriva la zappata di Sergio Ramos, arriva il 2-0 per il Real Però l'uscita adesso il costaricano, gli viene molto bene Quattro parate, nella serata di Keylor Navas, qua una follia per Baptistao, la porta è vuota Alberto Bueno accorcia le distanze dopo il patatrack totale della difesa del Real Madrid C'è ancora una partita al Bernabeu, l'aria aperta Alberto Bueno che si è nel suo quinto gol in campionato Fischia l'arbitro, si allontana Ronaldo, fa Bale e ci va solo vicino Contraattacco al Madrid, Cristiano Ronaldo è chiuso la strada per andare da Benzema, prova a convergere Ronaldo Si deve sacrificare per la sponda, Kroos la piazza e fa 3-1 Gol di stile impressionante da parte di Toni Kroos che segna la sua prima rete nella Liga Prima rete in maglia bianca per Toni Kroos, vediamo se rimane anche quella di Ronaldo che mette in mezzo Ci pensa Benzema, il gol è regolare, da rivedere perché sembrava assolutamente oltre Arriva Isco, ora c'è il corridoio, Cerchirnamos quasi cade per lasciarla a Ronaldo Ronaldo sterza, Ronaldo tira a papera di Alvarez E allora arriva il 5-1, arriva il gol di Cristiano Ronaldo E allora arriva il 5-2, arriva il 5-1